Ciao a tutti e benvenuti nel mio nuovo tutorial. Oggi vi voglio mostrare come disinstallare completamente le app su Mac. Se hai bisogno di liberare spazio o semplicemente vuoi fare pulizia delle applicazioni che non usi più da una vita, allora sei nel posto giusto. Partiamo con i due metodi ufficiali. Il primo è andare sul launchpad, questa iconcina qua. E quando si aprono tutte queste icone, bisogna cliccare e tenere premuto su una a caso, dopodiché andare a cliccare su queste x qua oppure trascinare l'iconcina nel cestino. Ti verrà chiesto di confermare l'eliminazione dell'app e se premi su elimina questa verrà spostata nel cestino. Da qui poi potrai eliminarla per sempre. Come puoi vedere però non tutte le app hanno delle x. Ad esempio se volessimo eliminare Google Chrome non possiamo cliccare su nessuna x e nemmeno se la trascino sul cestino succede qualcosa. Come toglierla dunque? Il metodo è quello di utilizzare il finder. Basta aprire il finder, andare qui nella voce applicazioni, trovare il programma in questione, ovvero Google Chrome, e trascinarlo nel cestino oppure cliccare col tasto destro e selezionare sposta nel cestino. Dopodiché basta andare sul cestino, cliccare sul tasto destro e fare svuoto al cestino. Così però anche se elimini l'app stessa in realtà non hai cancellato tutti i file associati a questa applicazione che sono rimasti nel tuo sistema e a lungo andare potrebbero riempire la tua memoria. Quindi vediamo come fare anche a cancellare i file associati. Ora c'è il metodo semplice e quello più difficile. Il metodo semplice è quello di utilizzare un'applicazione dedicata, ce ne sono veramente tanti e dopo ti mostro la mia preferita. Ma ovviamente partiamo con quello difficile che non richiede alcuna applicazione aggiuntiva, anche perché molti possono pensare, perché installare una nuova app per cancellare un'altra? È un po' un paradosso. Quindi vediamo un attimo come si fa. Supponiamo di voler cancellare VLC, un programma per guardare video che non uso più. Andiamo qui nella ricerca, digitiamo VLC ed ecco qui l'applicazione. Però noi vogliamo vedere anche i file associati. A questo punto andiamo per cliccare sul più e qui clicchiamo su nome per aprire il menu a tendina. Ora dobbiamo selezionare i file di sistema, tuttavia la voce non c'è. Quindi andiamo su altro, cerchiamo qua sistema, mettiamo qui la spuntina e clicchiamo su ok. Ora andiamo di nuovo nella lista e selezioniamo file di sistema. Qui invece selezioniamo sono inclusi. Ora vedrai tutti i file di sistema associati a VLC. Il problema è che qui hai troppi file. A volte ti potrebbero anche capitare file di testo che utilizzi che contengono la voce VLC. Quindi dovresti andare a selezionarne uno per uno in base alla cartella dove si trovano. E data di modifica. Quindi questo è il metodo difficile. Se vuoi evitarti questo sbattone e cercare magari un metodo molto più veloce e semplice che non ti faccia perdere file, puoi utilizzare un'applicazione di pulizia del Mac. Io per esempio utilizzo Macleaner Pro che offre anche un'app disinstallatore. Clicca qui per aprirla. Concedi i permessi. E trova l'app che vuoi disinstallare. Tra l'altro qui ci sono molte cose utili che puoi fare. Ad esempio rimuovere i programmi dell'avvio per velocizzare più in fretta l'avvio del Mac. Ad esempio questo Messenger Helper che non ci serve a niente non verrà avviato in automatico. Ma torniamo a noi. Da qui subito in Applicazioni puoi andare a trovare l'applicazione che vuoi disinstallare. Troviamo infatti Foxit Reader Google Chrome e tutte le altre applicazioni che abbiamo installate. Se premi disinstalla, questa verrà disinstallata completamente compresi i file di sistema. Troviamo ad esempio la nostra VLC. Premiamo disinstalla e vedrai tutti i file di sistema e cartelle di sistema che avevamo visto anche prima. Anzi qui ce ne sono ancora di più. Quindi questo è il modo più veloce e facile per eliminare completamente un'app e tutti i file di sistema associati. Come vedi io devo fare un po' di polizia. Quindi ad esempio disinstallo questo programma qua che mi dice 45 elementi selezionati e 107 MB. Rimuovi. Dopo pochi secondi l'applicazione è completamente cancellata e puoi procedere a cancellarne anche altre. Disinstalla. Si tratta di un sacco di programmi che ho installato giusto per provare e che poi purtroppo lascia un sacco di file sul tuo sistema così invece di rimuovi tutti e potrai sempre tenere pulito e aggiornato il tuo Mac. Spero che questo tutorial ti sia stato utile. Se ti è piaciuto metti il like e segui il nostro canale per nuovi video. Ciao e alla prossima! Ciao! Ciao!